Ultimo aggiornamento di oggi con Moversi in Toscana, ancora ben trovati da Mauro Ciutini. Una perdita di carico in A1 in direzione Firenze tra Fabro e Chiusi-Cianciano, in direzione opposta direzione Roma un veicolo in avaria tra Incisa-Reggello e Valdarno. Attenzione alla pioggia segnalata su tutto il tratto stradale dell'A1 da Chiusi-Cianciano a Roma Nord. Per quanto riguarda gli aerei, il volo Blue Air da Firenze a Bucharest delle 21 partirà questa sera alle 21.50. Lavori alla tramvia, il 10 di maggio sarà chiusa via Corridoni a Firenze per il getto conclusivo sulla rete tramviaria. Chiudiamo con il tempo previsto dal Consorzio Lama per domani lunedì in Toscana variabile con nuvolosità a tratti consistenti e rovesci o temporali sparsi alternati a schiarite. Tutto Moversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buona serata domani.